Ecco, benvenuti signore e signore, questo è halloween, come state, anche se non c'è una macchera, una macchera ne avrei, questo è il bisogno della strategia dei commetti, perché la situazione potrebbe dire da trazzica, la portare lì, vabbè l'apocalisse, andiamo, questo è piccolo regno, vabbè se ho usato i mattoni, ecco, è conquisto, va bene è halloween, come si dice, troppo paura con i suoni, ora vediamo, ecco, halloween, questa, si ha detto, non ho petto, poi, questo è bellissimo, è bisogno di cui comincieremo, vabbè, ci dobbiamo pensare, perfetto, questo è questo, so come si adorna, so come a Dio, bene, ecco, la legia ho fatto, benvenuti signori, vedete, signori, questo è un topolino, ecco, bene, vabbè, tanto non serve neanche una cosa, ma oggi, vedrete il ralassi, e va, ciusciui, ho troppa polizia, come si dice, vabbè, ecco il virus, vabbè, oltre il virus, benvenuti alla paura più grande al mondo, vabbè, gli alberi di pino non si fanno nulla, Inoltre, che dovete vedere da poco, ecco, ora vedete, ecco qui il Sato, va bene, va bene, è stato, di me si è stato da Opera e Noemi, vabbè, troppo Halloween con questa bicicletta, vabbè, ci vengono solo l'ho finito, tanto, di quelle che al camera non si fanno nuda, perfetto, è troppo drastica, poi la situazione potrebbe cambiare con il nuovo territorio, benvenuti, benvenuti signori, questo è pianeta delle simbie, va bene, oltre che le zia, questo è pianeta delle simbie, quindi, ecco, le formiche, poi, all'improvviso è venuta una molletta, sono troppo reale, poi, ecco, la cigaretta, vabbè, oltre che bisogno di voi, andiamo a un altro regno, il regno, il regno dei...